Un nuovo accordo di collaborazione vede impegnati il centro di formazione provinciale Giuseppe Zanardelli e la sede dell'ese di Maxim Wills, azienda con oltre un secolo di storia e il primato di più grande realtà industriale al mondo per la produzione di cerchioni. L'obiettivo è la sempre più stretta e strategica sinergia tra scuola e mondo del lavoro. Maxim Wills è l'azienda leader mondiale nella produzione di ruote, cerchi, acciaio ed alluminio per treni, veicoli commerciali e autovetture. Maxim Wills negli ultimi anni è cresciuta molto e ha avuto difficoltà nel ricoprire dei ruoli strategici, nello specifico quelli del manutentore o del tecnico. Il mercato oggi fornisce sì molti lavoratori ma non è così semplice trovarli. Abbiamo deciso di mettere in piedi un programma con il CFP per formarli al nostro interno. Un progetto che in Italia si comincia ad approcciare solo adesso, all'estero già da molti anni è in voga e una cosa consolidata nel tempo. Abbiamo già delle partnership forti con delle università anche importanti. Chiaramente il profilo dell'universitario ha un bacino limitato su determinati profili in questa azienda, mentre abbiamo 400 circa posizioni all'interno dell'azienda dove è più specializzato il centro professionale. Lo Zanardelli è comunque una scuola molto importante per Brescia, è qui in locco, è qui nelle vicinanze e quindi secondo noi era il più adatto per fare partnership con noi. Al centro di questa partnership abbiamo messo sicuramente la crescita di Maximum Wills ma anche il supporto della comunità locale negli anni a venire ed è per quello che un progetto così parte oggi. Sicuramente sappiamo che non dà risultati domani ma avendo comunque dei piani importanti per l'azienda e credendo nella comunità dove siamo presenti, questo può aiutare anche in un'ottica di occupazione in futuro. Maximum Wills vuole trasmettere dei valori molto importanti e che oggi noi spesso vediamo mancare. Capire cosa il mondo rappresenta durante il periodo scolastico. Molti anni fa era una cosa molto semplice, oggi molto spesso trovi dei lavoratori che hanno appena finito la scuola e rimangono sbalorditi da quello che si trovano di fronte, da quello che devono affrontare e in molti casi neanche preparati a questo. L'alternanza scuola-lavoro può aiutare molto a introdurre gradualmente un passo alla volta proprio questa cultura. Le buone intenzioni della scuola e dell'azienda sono degli elementi molto molto importanti. Pensare alle iniziative giuste da entrambe le parti è fondamentale. Però se dovessi dire qual è la chiave di successo, secondo me è il coinvolgimento dei giovani. Trovare la leva che accende la motivazione e l'interesse dei giovani verso un'iniziativa del genere. Siamo in un territorio dove comunque non ci sono particolari problemi occupazionali, per cui è veramente molto importante sottolineare gli aspetti di specificità di un'esperienza professionale in Maxim Wills. Fare e pensare attività che mirino a coinvolgere i ragazzi e ad attivare la loro energia e il loro interesse, tutto il meglio che hanno dalla loro parte in termini di entusiasmo e voglia da prendere. Lo che ci fa pensare di poter aprire un progetto pluriennale con il CFP Zanardelli sicuramente è avere trovato in loro un interlocutore propositivo, disposto a mettersi in gioco, a raccogliere le nostre idee, a interpretarle, a produrre dei suggerimenti per raggiungere quello che è il nostro obiettivo e il loro obiettivo, ovvero quello della migliore formazione possibile e preparazione possibile per un futuro professionale dei loro studenti. Questo è sicuramente l'aspetto principale che ci ha fatto molto piacere trovare negli interlocutori che abbiamo incontrato del centro di formazione professionale Zanardelli. Più ancora del fatto di condividere lo stesso territorio, anche questo sicuramente ha avuto un peso, o comunque di essere un istituto che forma delle professionalità che sono per noi comunque di interesse.